No! Non è possibile! Aghiwaghi è ancora vivo! Però dico io ragazzi, dovete credermi, è vivo! Davanti a noi c'è il trailer che dimostra la sua vita! Nel capitolo 3 di Poppy Playtime che sta per arrivare! Guardate, state insieme a me, vedete? Questa è una macchina della polizia, che va alla ricerca per la strada, no? Sta parlando alla radio, quindi sta cercando qualcuno! Secondo voi chi è che sta cercando? E' lui, e' lui, ve lo dico io, e' lui! Lo stanno cercando perché sanno che è ancora vivo! Dicono che stanno cercando un veicolo, un veicolo di qualche tipo, no? Ma ovviamente noi sappiamo che non è una macchina, quello è Aghiwaghi! Che cosa ci facciamo? Te lo dico io! Ah, sta parlando con qualcuno! Ah, ho capito! Stanno inseguendo, stanno cercando qualcosa, capito? Non so se è polizia effettivamente, mi sembra di sì perché chi è che parla alla radio? Di solito è sempre la polizia! Servizi di emergenza, insomma! Dice, tienimi aggiornato, no? Di quello che scopri! Lui sta continuando a viaggiare nella notte! Tra l'altro, non sembra nemmeno un filmato di un gioco! Sembra più un filmato tipo, eh... Proprio la dashcam che hanno i poliziotti, no? Che riprende la strada davanti! Quindi, forse, il gioco cambierà! Dobbiamo cercare di capire un po' tutto quello che possiamo, eh! Sicuramente sembrerebbe di capire da qui che non saremo più dentro una fabbrica! O almeno sembrerebbe... no! Quello che ti dà idea è che saremo tipo all'aperto! In un mondo normale! In un villaggio, magari! Non dentro la fabbrica di giocattoli! Quindi, se questo che ho capito è giusto, Aghiwaghi è scappato proprio! Ah, attenzione! Ok, qua è tipo un filmato, un'immagine in realtà, di una telecamera di sorveglianza! Dobbiamo comprendere ogni dettaglio, ragazzi! Dovete aiutarmi! Sicuramente alcuni dettagli io non li capirò! Me li scriverete voi nei commenti! Dobbiamo fare un lavoro di indagine super plus! Ok? Allora, 10.27 della sera, quindi della notte! Del 6.18.92! Qui sarebbe da ricordare quali erano le date della Ghiwaghi originale! Perché anche lì mi ricordo che c'erano dei numeri, delle date, di quando si svolgevano le cose! Mi pare che, se non erro, era nel passato! Comunque, non nei giorni nostri! Esperimento 1170! Aghiwaghi! Sicuro lui! È lui questo! È lui! Esce dalla fabbrica! Da una... Da una... Sarebbe tipo il posto dove caricano i camion! Quindi esce da lì! Aperta questa porta per caricare i camion! Nell'ala di produzione! Due degli staff member, quindi due operai, due lavoratori di lì, assistono all'incidente e danno l'allarme! Adesso vediamo se si vedrà che lui scappa! Al momento non si vede nulla! Cioè, questo è il gate aperto! Da qui probabilmente lui è scappato! Eccolo! Infatti! Si vede proprio... È la sua sagoma quella! È lui! Aghiwaghi! Mamma mia! Ve lo immaginate? Lui è scappato! Quindi non era morto! Questa è la conferma! Lui non era morto! Quando l'abbiamo visto cadere sui tubi, no? Alla fine del primo capitolo! Quello era soltanto un incidente! Anche perché io sono abbastanza certo! Anche per quello che è successo nel capitolo 2! Che di Aghiwaghi ce ne fosse solo uno! Non tanti! Cioè, ci sono i cuccioli, quelli di vari colori! Ma l'Aghiwaghi originale, quello che effettivamente abbiamo visto noi! Quello è uno solo, secondo me! Quindi se lui fosse morto, non ci sarebbe stato più come... Come anche Mommy Long Legs è una! Poppy Playtime è una! No? Anche lui, principale protagonista, secondo me, è l'unico! Adesso vediamo cosa procede, eh! Ovviamente, vedete, vedete, continua a scappare! E qua si vede benissimo che è lui, eh! Poi lo riguarderemo magari meglio, perché voglio che ogni dettaglio... Noi dobbiamo capire ogni dettaglio! Sicuramente ci sono anche delle cose nascoste che ci vuole un attimo per riuscire a comprendere! E poi andiamo a guardare anche l'altro trailer segreto che c'è a riguardo del capitolo 3 di Poppy Playtime! Vediamo se c'è qualche altro... Ok, un altro messaggio! Allora, tutti... Queste 10 e mezza della sera, della notte... Quindi subito dopo! Perché quello di prima era, mi pare, leggermente prima, quindi... Subito dopo! Ah, ecco, ecco! Quindi non era un poliziotto, un poliziotto quello che prima era in macchina! Era un membro dello staff di sicurezza della Poppy Playtime Corporation! Capito? Che stava andando a riprenderlo, secondo me! Perché guarda ci dice, tutti i membri della sicurezza a disposizione, tutti i veicoli, sono... Mastered, sinceramente non so cosa vuole dire! E probabilmente devono comunque iniziare la ricerca, no? L'inseguimento di 1170, che a questo punto è il codice di Aghiwaghi! Siamo sicuri, lui era l'esperimento 1170! Ma a questo momento, in questo momento, si stima che 1170 sia... abbia viaggiato mezzo miglio dalla fabbrica! Cioè, tu considera mezzo miglio... Adesso in chilometri... Dovrebbero essere comunque più di un chilometro, se non erro, no? Perché mi pare che un miglio sono 2,5 chilometri, circa, 2,7 forse... Mi ricordo, eh, potrei sbagliare, però... Insomma, però se tu conti che qui erano le 10.27, comunque è una distanza considerevole... Qui sono le 10.30, lui ha fatto mezzo miglio in 3 minuti! Capite? Cioè, se anche fosse un chilometro solo, no? Metti, ma... Oppure fossero 800 metri in 3 minuti! Cioè, correva come un dia... Ma è più, è più! Quindi lui correva come un diavolo, questo Aghiwaghi qui! E beh, lo sappiamo noi, è che lui fa così! È un diavolo! Immaginate averlo in un campo di grano! Cioè, immagina che tu stai scappando in un campo di grano e c'è lui che ti rincorre! Capito? Perché la fabbrica, comunque, aveva delle porte! Tu superata la porta, lui te lo lasciavi dietro per un po'! Qui no! Se sei all'aperto, non lo fermi mai! Ti rincorrerà per sempre! Lui è molto più veloce di noi! Continuiamo a vedere! Dobbiamo capire tutto! Voglio essere bobo analittico, io! Questo, questo... Allora, aspetta! Non riesco a capire bene, perché il verso che fa quando parla, sembra tipo distorto! Comunque ha detto, ok, we see him! Lo vediamo, ok? Quindi questo sarà il membro della sicurezza che lo vede! E infatti, e infatti, vedi? Sulla sinistra, a fianco alla mia faccia, proprio qui, c'è l'aggywaggy che sembra sdraiato! Come se magari lo avessero investito, no? Ha corso per strada, magari è passato un camion, l'ha investito... Quello non muore mai, ragazzi! Fidatevi di me! Io lo sapevo! Quando nel capitolo 2 lui non compariva, era ovvio che se lo tenevano per il 3! Perché è lui la star! Non può scomparire! È proprio il centro di tutta la vicenda! È lui, aggywaggy! Andiamo a vedere! Sicuramente non è morto, eh! Ma proprio certo su cento... Cento-cento! È lì che sta facendo finta, secondo me! Ah! Madonna, non era lui! E cosa fai? Fa le trappole! Come su Chapter... Sul Project Playtime! Che mette i finti aggywaggy, no? Gli aggywaggyni! Guarda che quello sembrava un aggywaggy! Ora, sarà difficile riuscire a vederlo perché è abbastanza buio! Potrebbero essere anche sterpaglie! Però io ci vedo proprio la manina! La manina gialla di aggywaggy! Mi sembra lui! Guarda, guarda quando arriva! Aspetta, eh! Becchiamo il momento preciso! Mamma mia! Mamma mia! Il diavolo, eh! Guarda quanto è brutto! Ma quanto è brutto, aggywaggy! Cioè, senza offesa, eh! Ma è veramente... Fa proprio paura! Poi te lo ripeto! Cioè, arrivando di corsa da distante, fa ancora più paura! Nella fabbrica tu lo vedevi arrivare, c'erano le grate, no? Quindi non poteva... Non poteva correrti lontano! Ma qui sì! Sei all'aperto voglia! Guarda, guarda come gli si but... Mamma mia! Addirittura un impatto talmente violento con la macchina! Cioè, lui arriva talmente di corsa, si butta! Che gli interrompe la registrazione della dashcam! Cioè, un autotreno, capite? Gli si è buttato addosso! Madonna mia! Cioè, per un attimo l'aveva... Vedete? L'aveva interrotta? Aspettate, eh! Perché qui ancora non è arrivato, ecco! Vedete? Per un istante... Disturba la visione della dashcam! Vedete? Qua è tutta pixelata! E poi... Boom! Qua non si capisce... Se il poliziotto, la guardia, insomma... La guardia di sicurezza, perché non è un poliziotto, è una guardia di sicurezza... Se abbia sparato... Perché c'è un buco nel vetro che sembra il buco di un proiettile... Però potrebbe anche essere l'impatto di Aguaghi! Perché mi sembra che ci sia... Cioè, Aguaghi si è sbattuto sicuramente... Forse più sul davanti della macchina, sul cofano... Quindi forse quello è uno sparo... Non si riesce bene a sentire... Proviamo a... Sembra che effettivamente potrebbe aver sparato il poliziotto... Perché si sente un... Che potrebbe essere anche il proiettile... Piuttosto che è lui che si sbatte... Però lui si è sbattuto alla macchina, sicuro... Secondo me gliela anche distrutta, eh! Vediamo cos'altro... Questi sono colpi... Questi sono spari... Forse quello di prima era l'impatto solo di Aguaghi... Ma sembra proprio un buco di proiettile quello, eh! Questi sono spari... Torniamo un attimo indietro e vediamola bene questa parte... Mamma mia! Addirittura c'è qualcuno che sta sparando dall'altra parte... Se vedete ci sono delle luci di là... E non succede più niente... Non ne ho idea... Cioè, dubito che basti sparargli per fermarlo... Non è indistruttibile, credo, alla fine dei conti, no? Però effettivamente è molto duro da morire... Quindi non credo che bastino un paio di proiettili e di pistola... Per buttarlo giù, ecco... La vedo difficile... 10.38... Qui sono passati altri otto minuti... Noi nell'inseguimento eravamo più o meno, secondo me, intorno a quest'ora... Perché alle 10.28 è scappato... Alle 10.30 se ne sono accorti... Fai che siamo partiti tutti appunto a quell'ora... 5 minuti... Ma anche meno, perché va percorso mezzo miglio... Fai un miglio per un po' di distanza in più... 10.30... 10.32 l'avranno trovato... 10.35 al massimo... 10.38 è passato ancora del tempo... Il team di sicurezza... Tenta di bloccare e circondare 1170... In un'intersezione stradale... Cioè c'era un incrocio... Probabilmente è dove abbiamo visto noi, eh... Tre colpi di tranquillizzanti... Di dardi tranquillizzanti... Vengono sparati... E 1170 viene colpito una volta nella gamba sinistra... Quindi quei colpi che abbiamo visto noi... A me non sembravano dardi tranquillizzanti comunque... Ma non lo so... Ah, comunque altra cosa importantissima che c'è qui... E non vorrei che venisse persa... Perché questo è astro importante... Aghiwaghi è vivo... È un essere vivente... Come io ho sempre detto, tra l'altro... Non vorrei essere... No? Bacchettone... Però io l'ho sempre detto... Anche quando tutti dicevano... No, è un giocattolo... È un animatronics... È un robot... È un giocattolo finto... Non è vivo... Non ha sangue... E io dicevo... Sì, ce l'ha... Vi ricordate quando siamo andati... A guardare con la telecamera... Dove lui sbatteva sui tubi? E abbiamo visto quelle tracce rosse... E io vi ho detto... Ragazzi, secondo me è sangue... No, Lion, secondo me è olio... E no, era sangue... Perché tu non puoi tranquillizzare un giocattolo... Con dei dardi tranquillizzanti... Quelli si usano per gli esseri viventi... Per gli elefanti... Per i leoni... Per le tigri... Un robot... Al massimo usi un impulso... Amp... No? Quegli impulsi per... Danneggiare le frequenze... No? Per interrompere le frequenze di funzionamento degli elettronici... Però... Con una persona viva... Usi un dardo... Con un animale... Con un mostro... Vivo... In carne ed ossa... Usi un dardo... Quindi... A discapito dell'aspetto che nella bocca si vedono ingranaggi... Fili... Sembra meccanico... E' vivo... E' proprio vivo... Scorre sangue nelle sue vene... Ha organi vitali... Questo è strano eh... Cioè... Io lo pensavo... Ma è comunque strano... Dice... Che comunque... 1170... Quindi... Aghiwaghi... Il suo nome in codice... Riesce comunque a scappare nella foresta... Quindi... Non muore lo stesso... Ma scappa... Quindi i dardi effettivamente hanno effetto su di lui... Perché altrimenti avrebbe continuato a combattere come se niente fosse... Comunque penso che quelli che lo hanno costruito sappiano di che cosa è fatto... Vediamo cos'altro succede... Qua è ovviamente ci fa... Ci da il tempo di leggere bene il messaggio... Noi l'abbiamo letto già... Perché è sempre meglio fermare tutto e... E prendersi il tempo... Di vedere ogni dettaglio eh... Ecco... 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 Qui siamo nella boscaglia... A seguirlo praticamente no? Il team di sicurezza si divide in piccoli gruppi e continua... Eh... Alla ricerca di Aghiwaghi 1170 a piedi... Grave errore... Gravissimo errore... Cioè... Volete morire... Volete perire... Volete lasciarci l'el pen... Non volete tornare a casa delle vostre mogli... Per forza di cose... È una cazzà... Vabbè... Andiamo a vedere... Questa è la boscaglia... Non so chi abbia messo... Forse hanno messo tipo le telecamere tipo Bigfoot... Avete presente no? Il gioco... Quando metti le telecamere in giro per il bosco... Per dargli la caccia meglio... Per scoprire dov'è... Potrebbe essere... E quindi questa è una telecamera fissa... Questa è un'altra... Infatti... Vedete che... L'hanno messa in diversi punti... Sperando di... Di vederlo... E io l'ho visto... E voi non lo vedete perché ci sono io ma mi tolgo subito... Quei filamenti che ci sono sulla sinistra... Dove era prima la mia faccia... E lui... Vi faccio vedere quando appaiono eh... Guardate... Qui non ci sono... Guardate eh... Guardate... Guardate... Eccolo... Vedete? Sono apparsi proprio dei filamenti lì... Nella zona in alto a sinistra dello schermo... Quelle... Quelle sono le braccia e le gambe di Huggy Wuggy... Al cento per cento ragazzi... Non c'è dubbio... Andiamo avanti e vediamo... Forse anche nel primo... Nella prima clip qualcosa cambiava eh... Andiamo avanti e poi ritorniamo indietro... Se... Eh... Qua si è visto cento per cento... Questo quello è lui... Quello è lui... Quello è lui... Si muove diversamente... Non so se... Se... Si sta tipo teletrasportando... E lì c'è da cagarsi addosso e da non giocare al tre... Perché... Se si teletrasporta dietro è la fine eh... C'è da proprio strizzagliarsi addosso... Oppure... Se il framerate della telecamera è bassissimo... E quindi riprende a fotogrammi... Spero che sia così... Me lo auguro... Però a sto punto c'era anche nella prima clip eh... Guardiamo bene... A me non mi pare eh... Io non lo vedo qui... Qui non lo vedo... Qui... Appare di brutto... E si sposta correndo pure... Però... Se vedete... Non sta più correndo come... Come nella clip iniziale... Quando si è sbattuto no... Al... Allo schermo della... Al windscreen della macchina no... Della security... Sta camminando... Vedete come cammina? Non... Non è... Slanciato... Anche se è un fotogramma... Però non è... Slanciato in corsa... Sta camminando... Quindi il dardo effettivamente ha funzionato... Gli ha fatto... Quello che doveva fare... Ah ecco e qui... L'hanno perso eh... L'hanno proprio perso... L'hanno perso... Quindi... Sì... Riconfermiamo il fatto che il capitolo 3 sarà in giro... Non in una fabbrica... Perché l'hanno perso... Sarebbe fighissimo se fossimo noi... A doverlo recuperare... Capite? Quindi diventasse tipo una specie di Bigfoot di nuovo... Dove tu devi dargli... Sarebbe bellissimo... Devi dargli la caccia... Devi mettere le trappole... Magari... Puoi... Progredire... E comprare... Dei mezzi per dargli la caccia di più... Ovviamente con la storia eh... Non dico... Non dico di fare una cosa tipo... Jetplaytime... No... Quello... È stato carino... Però no... Una cosa proprio con la storia... Ma dove tu devi progredire... Trovare nuovi mezzi... Per dargli la caccia... Per trovare... Per localizzare... Dov'è... Comunque dice... 10.50... Fino alle 3 del mattino... Quindi... Ore e ore... Sono... 10... 11... Mezzanotte... L'1... 2... Le 3... 4... 3... 4 ore... Insomma... Dove loro lo cercano... 5 forse... Espandono la ricerca... La zona di ricerca... In 4 miglia... 4 miglia quadrate... Quindi... Di nuovo... Uno spazio molto grande... 4 miglia... Moltipliamole per due... 8 chilometri quadrati... Una grande zona... Fino alle zone residenziali vicine... Quindi dove ci vivono le persone... Lui si potrebbe essere avvicinato... Loro... Capito... Sospettano che lui sia arrivato fino a lì... Fino alla gente... Questo li ammazza tutti... Qua ci scappa sicuro il morto... Tra i civili... E lì poi è un casino... Perché la gente scoprirebbe... Dell'esistenza di questa fabbrica... Che produce giocattoli... Vivi e mostruosi... Fuori dal range... Effettivo... Fuori dal range... Probabilmente... Della... Della radio centrale... Del comando... Le radio... Del team di sicurezza... Dei singoli... Guardiani... Diventano irraggiungibili... Cioè non possono più comunicare... Qua è finita... Immagino anche le telecamere forse... Qualcosa avranno recuperato... Qualche immagine... Speriamolo... Ah ecco sì... Le hanno recuperate... Ok questa è la telecamera... Di una delle guardie... Riporta l'orario delle 11.33... Della notte... Quindi... Un'ora dopo... Che è fuggito... Poco più di un'ora dopo che lui è scappato dalla fabbrica... Quindi dopo l'incontro all'incrocio... Stradale di prima... Dove si sono sparati i colpi di tranquillizzante... A quanto pare... Però prima... Che abbiano terminato le ricerche... Perché hanno detto... Fino alle 3.50... Quindi questo è all'inizio delle ricerche... Questo lo incontra e ci muore... Eh raga... Preparatevi perché... Mamma mia... Eh guarda 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 guarda... Questo è un alce eh... Un alce... Questo è stato mozzicato... Secondo me da Agiwagi... Lo ha ammazzato lui... Anche perché un animale l'avrebbe mangiato... Questo è rimasto lì... Era intero intero eh... Eh ho visto qualcosa... Ho visto qualcosa... Ho visto qualcosa... Aspettate... È lì... Lo vedete? Quello lì... È lui... Lo vuole mangiare di brutto... È proprio lì in mezzo... Non è... Super reattivo però... Perché sappiamo che Agiwagi sarebbe stato già al collo di quest'uomo... Se fosse stato al pieno delle sue potenzialità... Probabilmente è ancora stordito... Dall'effetto del tranquillizzante che gli hanno buttato addosso prima... A questo punto un'ora prima... Il tranquillizzante non fa effetto mai immediatamente... Di solito ci mette qualche minuto... Su di lui non ha avuto un effetto 100% a quanto pare... Perché ancora è lì... Però... Qualcosa gli ha fatto eh... Secondo me... L'ha fatto sicuramente scappare quindi... Qualcosa è successo... Qua non l'ho visto più... Ma sicuramente è lì... Mi pare di vederlo... Andiamo... Lo vedo... Credo di sì... Sotto le fronde nell'angolo in basso a destra... Da... Da quella parte... Nell'angolo... Mi sembra che sia lui eh... Abbastanza sicuro che sia lui... Urca miseria... Che paura... Che brutto... Ehi... Ripeto... Secondo me... Non è al massimo delle sue potenzialità però... Mamma mia... Che brutto... Oh mamma mia... Oh mamma mia... Che brutto che era... Però era un po' addormentato secondo me eh... Ripeto... Questa è la mia teoria... Durante la ricerca... Molti degli... Degli staff members... Quindi delle guardie... Sono stati uccisi da 1170... E altri sono spariti... Qua c'è una parte censurata... Sicuramente... Uno degli staff member è stato ucciso... Non lo so eh... Cioè... La potenzialità... E anche che lui... Non abbia sortito effetto... Del tranquillizzante... E quindi che sia effettivamente un robot... Però è scappato... Quando gli sono stati sparati i dardi... Quindi... Cioè mi viene da pensare... Che è un effetto l'abbiamo avuto... Sicuramente non è un effetto di impatto... Perché se non gli fa nulla un colpo di pistola... Figuratevi un dardo... Che è un proiettile di vetro praticamente... No di... Cioè... Una roba... Non so com'è fatto... Però una... La silinga non ha... Sicuramente la stessa potenza... D'impatto... Anzi non ne ha praticamente... Perché non deve fare male... Deve solo addormentare... Durante la ricerca... Ehm... Sì... Altri sono spariti... Vabbè... L'abbiamo già letto questo qua... Ok... Andiamo avanti... Si vedono altri che sono stati uccisi sicuramente qui... Questo è su un albero... Su un albero... Questo è stato ucciso... Alla Macaco Wei... Un albero... Ecco qua... Queste sono le facce... Secondo me sono gli sviluppatori questi eh... O gli amici degli sviluppatori... Non lo so... Comunque cinque sono morti... E sei sono scomparsi... Ha fatto un cimitero... Aghiwaghi... Non ne avevamo dubbi... Era una bomba orologeria... Prima o poi avrebbe fatto un disastro... Questo è un urlo suo... Non... Non mi pare che si vedesse... Ah ecco... Ecco... No... Allora no... Qua c'è la conferma al 100% però... Di quello che ho detto io eh... Mi dispiace... Qui al 100% conferma... Quello che ho detto io... Nel caso in cui aveste ancora qualche dubbio... Ci vogliono 4 ore... Per localizzare... Ci sono volute 4 ore per localizzare... E sedare... Quindi ci sono riusciti a sedarlo... Sedarlo con i proiettili tranquillizzanti... Con le siringhe tranquillizzanti sparate... Come abbiamo visto prima... Quindi hanno funzionato... Evidentemente la dose di una sola... Non era sufficiente... O forse col pendolo nella gamba... Non è stato abbastanza... Magari non è andato in circolo il tranquillante... Per addormentarlo... Però ci vogliono 4 ore... Per ritrovare... E sedare... Con successo... 1170... Quindi Aghiwaghi... Quindi è vero... È vivo... Al 100% a questo punto eh... Se ancora ci fosse qualche dubbio... Al 100%... Qua abbiamo una lettera... Firmata da... Late Pierre... Playtime Co... Head of Innovation... Cioè il capo... Della ricerca e sviluppo... Praticamente dell'innovazione... Dei nuovi progetti... E... È un po' tagliata... La parte in alto non si vede... Però... Si legge abbastanza... Dice... Come 1170... È stato in grado di... Access... Di avere accesso... Al sistema di ventilazione... Senza che la sicurezza lo comprendesse... E fuori dalla mia comprensione... Cioè non comprendo come sia stato possibile... Che Aghiwaghi riuscisse... Ad accedere alla ventilazione... Senza che noi lo capissimo... E secondo me qua... È colpa nostra... Noi che eravamo nel capitolo 1... E che abbiamo macchinato... Noi... Eravamo degli imbecilli... E abbiamo toccato tutto... Abbiamo aperto ventilazione... E noi ci siamo infilati nei condotti... L'abbiamo portato noi... Abbiamo aperto noi... Vi ricordate mettendo i pezzi del giocattolo... Tirando qua e là... Quindi è stata colpa nostra... Che Aghiwaghi alla fine è riuscito a scappare... Perché noi gli abbiamo aperto il ventilazione... Il condotto di ventilazione... Da cui poi a quanto pare è riuscito ad arrivare... Alla zona delle merci... E poi scappare... Capite? E... È soltanto... Fortuna... Che l'abbiamo trovato... Prima che qualcun altro lo trovasse... E ci è costato vite... Se l'avessi trovato una persona... O qualcun giornalista... Cioè chiunque avesse trovato le tracce di Aghiwaghi... Sarebbe scoppiato un delirio... La società Playtime Co... Sarebbe stata denunciata... Perché era un pericolo infinito... Aghiwaghi... Il dipartimento di innovazione non è felice... E io non sono felice... Firmato Late Pierre... Che era... Mi pare che l'avamo anche visto qualcosa di lui... Nel... All'interno del... Del primo capitolo... Forse anche del secondo... Credo che sia... Forse tutto qui... E vediamo se c'è dell'altro... Sì... C'è dell'altro... C'è una casa... Alle 3.38... Del mattino... Quindi circa... Forse anche dopo... La fine delle ricerche... Dove loro hanno detto che l'hanno trovato e sedato... O forse dopo la fine... E io mi pare che ho visto... Che c'era lui qui eh... Allora sì... Al 100%... Le mani vedete... Nella parte... Centrale in alto... Dello schermo... Quelle sono le sue mani gialle... E si vedono le sue gambe anche... Quindi... E anche gli occhi si vedono... Mamma mia... Si vedono anche gli occhi bianchi... Vedete il sorriso quasi... Brutto... Lui era arrivato... Fino fuori a una delle case... Finché non l'hanno sedato... O almeno... Aspetta... Fammi controllare... Perché qua bisogna capire bene... Bisogna capire bene... Allora... 3.38... Sì... Esatto... Quindi è proprio l'orario in cui lo hanno trovato... La fine... 3.38 a M... Quindi... Per un attimo ho pensato... Magari... Lui è riuscito a scappare... Quando l'avevano preso... Cioè si è risvegliato di nuovo... Però l'orario è lo stesso... Fosse stato dopo... No? Dopo la fine... Avrei pensato così... Quindi ci sta soltanto dicendo... Che lui è arrivato... Fuori da un quartiere residenziale... Proprio davanti alle case delle persone... Ed è stato proprio preso lì... Subito prima che entrasse a uccidere tutti... Praticamente... Ragazzi io direi che per oggi ci dobbiamo fermare... Abbiamo visto tutto di questo trailer... Allungandoci all'infinito... Però... Mi è piaciuto... Sono riuscito secondo me a strapolare molte verità... Fatemi sapere la vostra ragione... Nei commenti ci conto... Correggetemi... Su quello che voi pensate diversamente... Oppure... Scrivetemi se anche voi siete d'accordo... Sul fatto che Agiwagi sia umano... Sia vivo... E per oggi ci fermiamo... Grazie di aver guardato il video... E Lion out! Grazie a tutti...